... per imbastire la rimonta, il cross di Giorgione, il pallone in area, il colpo di testa che accorcia le distanze. Responsabilità per Cocco. Parte Cocco, il pareggio. In mezzo alla... A cercare il colpo di testa di Borghini che prova a riaprire il match. Triangolo con Cocco, ma arriva Piccoli, che innesca Zoma, che va via benissimo, entra in area Zoma, la palla sul Mancino, anzi sul destro, lo scarico per Cocco! E poi arriva la rette dell'Albinolefe. Di nuovo Manconi che si gira benissimo, calcia! E un gol magistrale, quello di Manconi. Manconi apre per Cocco, Cocco si porta la palla sul destro e arriva il trist dell'Albinolefe. Manconi recupera un ottimo pallone, grazie anche a Giorgione. Manconi scarica bene per il destro, vincente, da parte di Frosinini!